Visita alle sedi regionali di Torino della Croce Rossa italiana per il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e i consiglieri segretari Gianluca Gavazza e Michele Mosca. In via Bologna 171, sede centrale dal 1990, sono stati accolti dal Presidente regionale Vittorio Ferrero e dal Presidente del Comitato di Torino Giuseppe Vernero che hanno illustrato l'attività e le potenzialità di un'istituzione che, specie nei giorni della pandemia, è diventata un punto di riferimento per i cittadini e il sistema sanitario. Da febbraio a dicembre 2020, il personale della Croce Rossa e i volontari hanno offerto 145.000 giornate di lavoro per la gestione delle emergenze, il trasporto di medicinali o la consegna dei pacchi spesa alle persone in difficoltà. Una visita istituzionale in Croce Rossa, qua a Torino, per vedere una realtà sociale, di volontariato importantissimo per il nostro territorio che sta dando tanto e tanto darà, non solo nel periodo Covid e ci deve essere un giusto riconoscimento da parte del Consiglio regionale e della Regione Piemonte per questa realtà e tante altre che operano sul nostro territorio da sempre. Il Comitato regionale della Croce Rossa, con 22.000 volontari distribuiti in 171 comuni, è il più grande d'Italia. Una realtà che non si ferma e che vuole continuare a potenziare la rete di assistenza per essere sempre più presente sul territorio, anche in partnership con aziende pubbliche e private. Con la visita di oggi si sono creati i presupposti per una nuova collaborazione sulle tematiche del soccorso e per avviare nuovi progetti. Una visita per esprimere un ringraziamento per il grande lavoro svolto, sia storicamente, quindi dalla nascita della Croce Rossa, sia nell'ultimo anno e mezzo legato alla pandemia del Covid e soprattutto anche per il lavoro che quotidianamente i volontari della Croce Rossa svolgono. Quindi un servizio sociale, un servizio sociale buono che sicuramente deve trovare l'appoggio di tutti noi. Noi come ufficio di presidenza del Consiglio regionale siamo venuti qui e vogliamo essere vicini per dare un segnale forte e chiaro che l'istituzione segue a pari passo e a fianco a queste associazioni che fanno del bene e che aiutano le persone in un momento di bisogno.